Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Frenste e oggi sono al buon vento con la mia famiglia Papà dov'è? Papà Papi Papi Papà 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 è bella grigia io la voglio mai io la voglio grigia ci vediamo dopo quando abbiamo sponsorizzato questo posto antime che bella sono entrata da un punto mi metto io non fisto questa non so dove ho gli occhi non solo qua io sono un essere che non ci vede non è bene ma capire è tutto pirax pirax non si è presa niente piangi faccio il giro ma io dopo la voglio stai te le pe stai te le pe stai te le pe oi gio det Morlio E' un po' di più. sono forte noi li facciamo azzurre e li possiamo azzurre e non basta deve bruciare tutto sono i nostri divanti quindi compreso di trasporto sanno come portare il divano quindi hanno anche in certe competenze di altri aiutano tantissimo barbe aiutano 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 finalmente il cammino è in cuore azzurre Meschi 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 Quattro meschi Meschi 幹i a tunnbar Dremmen prende il caffè oh lei si può caricare il teletro brava mamma mia oh lei si può caricare il teletro prendiamo il libro lion lion questo è l'importante non c'è lion non c'è favi non c'è favi non c'è favi favi j lorenzo lorenzo stuni non c'è favi non c'è favi o mega ma è spiccato e non ci sono fanno proprio questo Non, 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 non. dai dai dai! dai 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 dieieibole oee stai grazie haftia Mamma mia mamma! Pokémon, Pokémon, Tore, 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 Pokémon, Figur Pokémon, mamma mia! Mamma mia mamma! Se si ne è nuvere! Oggi no amo sto viaggio! Non lo so! Basta! Basta! Non lo so! 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 Ma non è bello! Non gloria! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Ja,